Adesso leggeremo una bellissima lettera e dovete tutti ascoltarla, assolutamente. Chi non l'ascolta fondamentalmente vuole saperne il fatto, dobbiamo saperne di più, oggi è successo un fatto gravissimo e adesso Michela Calabro, che chiamo qui sul palco, leggerà questa lettera per celebrare questo momento che è gravissimo. Michela Calabro, ti voglio qua. Michela sta arrivando, per favore sali, dammi la mano. Grazie mille, grazie. Leggila e dedicaci tutti a una poesia. Allora, il 19 luglio del 1992 a Palermo, in via D'Amedio, una bomba contenente circa 100 kg di tritolo scoppiava. Nell'attentato persero la vita, il giudice antimafia Paolo Morsellino, il capo dell'ascolta Agostino Catalano e gli agenti Emanuela Loi, prima agente donna a far parte di una scolta. Di Certo Niguli, Valteretti, Claudio Fraina, la strada di D'Amedio, seguì in due mesi la strada di Capati, in cui era stato uscito il giudice Falcone, amico e collega del giudice Portellino, segnato uno dei momenti più tragici della storia italiana. In Italia sono tante le iniziative in programma per ricordare questo drammatico evento Anche noi a Reggio Calabria, durante il nostro Pride vogliamo dedicare un applauso e un omaggio a Paolo Borsettino E a tutte le persone che non sono ammazzate Grazie